Mercoledì 28. Desideravo rivedere mia moglie ancora per qualche istante. La dulcezza del rovigo mi ha condotto, insieme come figlio, a Parigi. A casa mia ho trovato i signori di Pertilacchi di Quittri. Sono gli ultimi amici che gli ho appreciato. Erano terrorizzati, eccitazioni e incertezze. Sono come il nemico ai porti della città. Ritornando alla Malmaison abbiamo visto il ponte di Chateau e le fiamme mettevano piccette dei soldati intorno a noi. Diventava prudente stare e guardia. Sono entrato dall'imperatore glì, ho descritto come mi apparsa la capitale glì, ho riferito qual è l'opinione generale che fosse tra i dissi, apertamente la cosa nazionale che i buoni francesi sperano che lui, Napoleone, torni, ancora questa notte stessa per la matta che lo aspetta. L'imperatore mi ha ascoltato pensieroso ma mi ha congettato senza dire nulla. Io governo provvisorio metti l'imperatore sotto la custodia del general Becker. Napoleone, la sciglia da Malmaison partì per Rochefort. Giovede 29, venerdì 30, per tutta la mattina, la grande strada di Saint-Germain, e che diabo, senza solta di grida lontani di Viva l'Imperadori, erano le truppe che passevano sotto le mura della Malmaison. Verso la metà della giornata è arrivato il general Becker, inviato del governo provvisorio con una certa indignazione eglici, ha detto che ha ricevuto l'ordine di custodire Napoleone e di sorvegliarlo. Un abietto sentimento aveva ispirato questa steltà. Fouché sapeva che il general Becker nutriva particolare risentimento verso gli imperatori e non debitava quindi di trovare in lui un animo inaspirato e pronto alla vendetta. Non poteva spagliarsi in modo più grossolano. Questo generale non cessa di mostrare un rispetto e una devozione che onorano i suoi caratteri. Ma il tempo stringe sul punto di partire l'Imperadori l'offre al governo provvisorio per mezzo dello stesso general Becker. Dei marciari con un semplice cittadino alla testa delle truppe prometteva di respingere Boucher e di proseguire subito dopo per la propria strada. A rifiuto del governo provvisorio abbiamo lasciato la Malmaison. L'Imperadori a una parte del suo seguito hanno preso la strada di Rochefort passando per Tours. Io, mio figlio, Montadon Pena, risiniti siamo aviati verso l'Orlean seguito. Da due o tre carotti siamo arrivati a Orlean la mattina da 30 e verso la mezzanotte a Chattelro. Il nostro viaggio da Orlean a Jarnac sabato, privato luglio, domenica due, abbiamo attraversato le voci il privato luglio, verso le quattro di sera. Abbiamo pranzato la Rochefort e noi siamo giunti alle sette a Jarnac dove abbiamo dormito perché la cattiva volontà del maestro dei posti ci costringi a passarvi la notte. Grazie.